e bentornati nella mia serie di minecraft minecraft vaniglia ciao anche da steve fu l'armatura no cosa fai picchi legno allora ragazzi so che avevo detto nello scorso video che oggi avevamo costruito la casa più grande però intanto abbiamo questa casetta adesso dobbiamo pensare alla sopravvivenza vedete quanto ferro ho trovato ho trovato dell'altro dell'altro lingotti e però maledizione devo mangiare qualcosa perché sto morendo di fame ovviamente non c'ho carbone no non ce l'ho a carbone no no nove pezzi di carbone e qui messaggio a rotto di orlo facciamo colazione ragazzi qua bisogna pensare alla sopravvivenza allora io direi di fare un recinto abbastanza grande e cercare di catturare i più animali possibili vediamo un po ce l'abbiamo legna ce l'abbiamo ce l'abbiamo mamma mia quanta roba che c'ho qua ah ho presso anche gli alberi della giungla no della giungla gli alberi quelli della savana aspettate 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 che se non se non ricordo ma le piantine morte ci danno gli stick vediamo un po se ho ragione no sì ci danno stick allora le raccolgo io e torno subito ok ragazzi siamo tornati adesso dobbiamo fare le fence vediamo un po se mi ricordo come si fanno eh sì così allora vediamo un po dove fare una zona se non sbaglio ci avevamo anche una porta in più sì ne abbiamo due portiamoci anche un la stone che non ci siamo la la roccia insomma la cobblestone io direi che questo spazio qua va più che bene ragazzi liberate camere spente e ci vediamo fra due secondi ok come avete visto ho fatto un po di spazio facciamo un po di pavimento con con le lastre di sandstone per non consumare il legno così destac basteranno sì a voglia e bastano no però se faccio così non finiamo più vabbè dopo lo tolgo io a te camere spente giusti giusti 1 2 1 2 e te pareva che mi mancava qualcosa non ce l'ho e allora facciamo già di pietra e passa la paura ma ragazzi andiamo a battere gli alberi ci serve legna e ho e ho e ho no quelli erano i sette anni però vabbè intanto il sole si sta abbassando eeeh guarda quanta roba che c'è qui dentro ferro uh ferro carbone uh c'è un sacco di roba poi ci andremo in miniera ragazzi faremo un altro scorso se miniera via 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 corriamo 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 ragazzi bisogna fare un punticello perché sennò gli animali già sono dei coglioni tiri loro poi ci affogano uh vedete quanta roba c'è eh questa roba mi ha dato parecchia roba guardate quanti animali ci sono ora io non so se però ci seguiranno maledizione le papere si di sicuro ma gli altri animali non penso e dai su carica dai uh guardate che bello l'albero adesso abbiamo abbastanza legna per tutto quello che dobbiamo fare torniamo a casa eccoci qua craftiamo a parte mangiamo qualcosa perché stiamo morando di fame poi vediamo un po' no porca miseria mi sono dimenticato di trasformare la legna e sono felicio ragazzi qui mi arriva di tutto messaggi mentre sto registrando porca vacca e dai uno e uno dove questi bastano andiamo vediamo un attimo si uno e uno due perfetto cuociamo un po' di stone ragazzi di cobblestone ok ragazzi ha cotto un po' di stone adesso volevo vedere un attimo se mi ricordo bene eh mi sembra si facciano così si ragazzi a me questo blocco piace tanto non so perché 48 si possono anche bastare facciamo i slab ok andiamo a sistemare fuori la stalla provvisoria no ho sbagliato così faccio questo lavoro ragazzi così sono sicuro che i danni non diano noia ai nostri animali ovviamente questa è una cosa provvisoria ma sono proprio scemo me la sono tirata addosso si ci siamo avanzati piazziamo un paio di torce in modo che non spona nessuno e ci siamo e ci siamo ora ragazzi dovremmo fare un piccolo ponte perché altrimenti come già detto gli animali sono stupidi e affogano nell'acqua costruiamo il ponte costruiamo il ponte speriamo che non crolli tutto ah già che in minecraft non c'è la gravità ragazzi andiamo a fare le scale dovrebbero poter bastare speriamo 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 per l'escrizione Grazie a tutti. 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 Il punto è fatto. Lo si stimerà meglio a te. Non vi preoccupate. Quindi la prossima volta penso di andare a catturare gli animali. Non lo so ragazzi. Io vi ringrazio per la visione. Mi raccomando commentate e iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Lasciate like. E da Shark e tutto ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi.